Attenzione, nemici in arrivo. Pensi davvero di poterci sfuggire? Ando alla ricerca di... Troppo facile! E' un errore! Quale motivo ti nascondi? Ti troverò! Pariamo per uccidere! Uccirai a un certo punto! Andiamo! C'è il battaglione! Mi puzza! Vedi se trovi l'agente scomparso, ma fai attenzione! Questa è per forza una trappola! I rilevamenti indicano che l'aria è sicura. Attenzione! Stai abbandonando l'aria sicura! Negativo! Dovevano fare il rapporto dieci minuti fa! Non va bene! Sa che combina la GDF? Andiamo! Fuoco sul bersaglio! Per quale motivo ti ascolta? Fuori in addestramento! Non arrendetevi! Non arrendetevi! Stai nel nostro territorio! Non ucciscono dei nostri! Fuori in addestramento! Non vedo niente! Pariamo per uccidere! Pariamo per uccidere! Pariamo per uccidere! Dobbiamo mettere fine alle cazzate della JTF! A sorire del fuoco! Ora perdiamo la pressione! Ciao! No! 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 No!